Il copy trading senza rischio di BingX in questi giorni mi ha letteralmente salvato In questa fase di altissima volatilità la maggior parte delle persone che fa copy trading ha perso sicuramente soldi Questo perché i trader in questione continuavano ad aprire posizioni magari anche short contro bitcoin con leve altissime e venivano liquidati in continuazione andando a perdere tutti tutti i soldi perché nella maggior parte dei casi questi trader non utilizzano gli stop loss Grazie appunto a BingX sono riuscito letteralmente a salvarmi e non perdere nulla Questo perché come vi ho già spiegato in qualche video BingX offre una possibilità di copy trading senza rischi e vi faccio vedere come è andato Ciao amico criptomane e benvenuto in questo nuovo video se non mi conoscivo sono Salvatore e ti aiuterò a capire molto di più del mondo del trading e delle criptovalute Prima di iniziare però come sempre lascia un like a questo video per supportarmi per me è molto importante E soprattutto iscriviti al canale e seguimi su tutti i social se ancora non l'hai fatto ed entra nella community privata dove troverai contenuti totalmente esclusivi Ti basterà lasciare la tua mail, trovi in descrizione un link, lascia la mail, ti aspetto dentro In sostanza quello che è successo in questi giorni è che bitcoin ha avuto un pump davvero incredibile Infatti lo possiamo subito osservare su questo grafico e nella maggior parte dei casi mi è capitato di sentire tantissime persone che hanno perso tantissimi soldi sul copy trading Questo perché molti di questi trader ovviamente non utilizzano gli stop loss e magari quando utilizzano leve alte non so ad esempio 20x, 50x Ovviamente quelle posizioni in altissima volatilità come quella diciamo di questi ultimi giorni ovviamente quelle posizioni rischiano la liquidazione Molto spesso rischiano la liquidazione anche se sono diciamo in favore di trend Nel senso che anche i trader che erano long hanno rischiato le liquidazioni perché quando c'è un'altissima volatilità come appunto in questi giorni Le oscillazioni di prezzo sono davvero davvero grandi e quindi vi faccio un esempio Chi è long? Ok vedete anche in questo caso rischia di essere liquidato perché appunto c'è un'alta altissima volatilità E con leve tipo 50x le oscillazioni di prezzo anche del 2% o 3% comunque possono portare in liquidazione Per mia fortuna però come vi ho detto un po' di tempo fa esiste il cosiddetto copy trading senza rischio di Bing X E quindi quello letteralmente mi ha salvato perché come possiamo vedere dal copy trading Io ovviamente stavo testando tantissimi trader tra cui anche uno molto interessante E proprio quel trader invece ha iniziato appunto ad essere liquidato perché continuava ad aprire posizioni short contro bitcoin Senza utilizzare i stop loss e quindi tutte le posizioni venivano liquidate andando a perdere tantissimi soldi Di chi mi segue sa di chi sto parlando è Milky Way e ovviamente infatti come possiamo vedere il mio copy trading era nettamente in profitto Questo è il copy trading prova e adesso si trova nettamente in perdita Ma ovviamente questo però da un lato può essere un grande vantaggio perché essendo non fondi veri Ovviamente non mi interessa delle perdite ma a cosa mi è servito? Mi è servito a capire tra tutti i trader quali sono appunto dei trader veramente veramente bravi Nel senso che vi faccio un esempio questo trader nonostante l'alta volatilità nonostante tutto È un trader che ha deciso praticamente di non aprire in quelle ore delle posizioni Perché appunto magari evitando l'alta volatilità infatti è uno dei pochi pochi trader Tra tutti che non ha perso soldi in questo periodo Anzi ha continuato a guadagnare perché ha aspettato che le acque si calmasse per continuare ad aprire delle posizioni Ovviamente se vi interessa anche a voi testare questo trader ragazzi vi lascio in descrizione il link di BingX Dopo esservi registrati ricliccate sul link e vi porterà direttamente da questo trader se volete provarlo E tutto questo ovviamente ci porta con il tempo a capire quali possono essere i trader che possiamo seguire letteralmente Io continuo a testare dei trader tanto con questa modalità non perdo soldi E magari dopo un mese di test ecco affrontando anche dei periodi di alta volatilità come quello scorso È importante per capire appunto quali possono essere dei trader veramente profittevoli Questo ragazzi è uno dei tanti motivi in cui vi spiego nel video corto che ho creato riguardo il copy trading Se ancora non l'avete visto ragazzi andatelo a vedere che è gratuito ve lo lascio qua da quarte parte Nel quale appunto vi dico che la cosa più importante per essere positivo nel copy trading È sicuramente la fase di test e la gestione del denaro Se avete 1000 euro da dedicare al copy trading e iniziate a copiare un trader direttamente perché le performance sono state importanti E quindi iniziate a copiarlo anche in modo aggressivo dedicando gli 20, 30, 40, 50 USDT per ogni trade Quel trader beh in una fase magari di mercato con alta volatilità ci metterà ben poco a liquidare tutto l'intero capitale E quindi la cosa più importante è iniziare a fare dei test per capire come opera il trader Se in momenti di volatilità anche quando magari perde perché non è importante trovare un trader che non perde mai È importante trovare un trader che nel lungo periodo sia comunque profittevole E che nei momenti di perdita magari sia anche in grado di lasciar perdere Chiudere le posizioni, accettare le perde e poi ricominciare E invece appunto il test serve a capire quando dei trader invece magari hanno avuto soltanto magari un bel po' di fortuna E quindi come in questo caso evitare quei trader La maggior parte delle persone che fa copy trading segue i trader aggressivissimi che portano tanti guadagni costanti Ma che appunto nei momenti di perdita perdono molto molto di più Perché utilizzano leve altissime, come ad esempio 50x E aprono delle posizioni in continuazione utilizzando magari anche un sistema di griglia Quindi il cosiddetto gridbot Ma quei gridbot come vi ho già spiegato in altri video Non funzionano quando il prezzo esce al di fuori del range E anzi vi porta a liquidare l'intero conto Soprattutto se quei trader non utilizzano gli stop loss E quindi è importante magari testare determinati trader aggressivi Se proprio volete farlo Utilizzando delle strategie di stop loss e di take profit In modo da non dare appunto al trader la totalità del vostro budget E fargli levidare tutte le posizioni Come è successo a tantissime persone in questi giorni Vi ricordo inoltre ragazzi che attualmente Bing X vi dà un bonus Se vi registrate dal mio link ovviamente fino a 1000 USDT È molto semplice ricevere il bonus dipenderà dal deposito e dal volume di trading che fate Fino a 1000 dollari di deposito riceverete un bonus di 50 USDT Con un volume di 10.000 dollari Poi successivamente dopo i 1000 riceverete 500 USDT di bonus Con un volume fino a 100.000 USDT E infine per ricevere 1000 USDT vi basterà fare un deposito sopra i 10.000 USDT E fare un volume di 300.000 USDT Cose che si riescono a fare tranquillamente ragazzi quando si utilizza ovviamente anche il copy trading O si fa trading anche utilizzando i futures Quindi in leva è facile fare i volumi alti E poi ragazzi vi ricordo un'altra cosa molto molto importante Ovvero la possibilità di fare trading con tantissimi strumenti su Bing X Tra cui il forex, gli indici, quindi le coppie di valute Vedete gli indici, i vari indici, l'SMP500, Nasdaq e tutti gli altri indici Poi le commodidi, vedete gas eccetera eccetera Argento, oro, silver, platinum, quindi tutto E poi ragazzi ovviamente le varie categorie di criptovalute Quindi su Bing X potete anche diversificare il vostro trading Infine ragazzi vi faccio vedere i risultati invece reali di questo trader Vedete questi sono gli USDT, sono i miei risultati Attualmente con un guadagno di circa 100 USDT Non è un guadagno grandissimo utilizzando un margine di 10 USDT Ma vi faccio vedere ragazzi che questo trader utilizza Vedete delle leve relativamente basse 5x, non leve altissime Può essere liquidato ma molto più difficilmente E comunque è un trader un po' più conservativo Fermi perché questo non vuol dire che è un trader che non perderà mai Che vi farà diventare ricco e che quindi dovete andare online Ragazzi testatelo sempre Io vi ho lasciato il link di Bing X in descrizione Se volete testarlo magari prima con i VST Trovate tutti i video riguardo le guide per capire come utilizzarli E successivamente passare poi eventualmente con il saldo reale Infine ragazzi vi ricordo di seguirmi su tutti i social Anche su TikTok per interagire di più sui miei video Ovviamente lasciate un commento per me molto molto importante Qualsiasi cosa non avete capito O magari se volete qualche video dedicato Fatemelo sapere nei commenti Lasciate sempre il like ai video per me è importante Iscrivetevi al canale Io vi aspetto nei prossimi video Grazie a tutti per aver guardato il video